Emigliano era il terbi del terbi, per sé è una partita di quelle che senti moltissimo, l'attentivazione da Bologna è un punto importante, fondamentale. Importantissimo, adesso ha fatto una buonissima gara, ha fatto tutto il secondo tempo, adesso ha un piano di punti a livello alto, questo è un po' che funziona la settimana è difficile. Ha fatto tutto il Bologna, ovvero i vostri sportivi ai di Cagliari, un paese importante, adesso è stato sbagliato, l'escursione. No, non è stato un errore così, però diciamo che abbiamo reagito per far venire fuori quelle che dovevano essere le motivazioni nostre da loro, anche l'altro loro è finito. E Marco, hai detto che ha sbagliato? No, non so. No, non ho fatto arrivare in quel campanone di quelli di Pabllo, di Pabllo, di Pabllo, ha fatto 19 gol, quindi lo sa così. E come le sa? Dimmi di più. Non è mai nessuno dal Bologna, non è più spesso, non è più spesso. E' partita? Perché non ha bisogno. Non è che da me quando faccio gli errori, non è più spesso. Lo so già, nessuno gli ha detto una parola, non è più spesso. Comunque la risposta migliore è che lui ha risposto, quindi è già quello che ha fatto. E' quello che avevamo detto. E' quello che aveva 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 detto. No, perché non aveva bisogno. Però sai, lei dice, tu sei l'ha guidato per lui. Non ha guidato per lui. No, noi episodi. No, non si vuole quando l'arbitro, il paio di più si può fare. A volte, magari quando conduce una partita, siamo in tutta la gara. E siamo quasi saldi. Speriamo di sentirci tra quattro ore e più, come sai. Ma è vero che hai cercato caso a te? Ancora, questa sera. No, ma finiamo a te. No, guarda. A me è fatto emervosire il fatto che si rende in mezzo mia moglie, che non ha quasi neanche voce. C'è un'altra di mezzo a tutte le volte. Però io a Genova non c'è mai fatto. Io non ho mai visto. C'erano tre anni. E' per stati continuativi. Io sono in tre giorni. Per ora non c'è. Speriamo a vedere quelli che faranno quell'arbitrati di colore. All'inizio. Speriamo che vogliamo. Visto. 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 Io non mi sento di far nessuna premenza. Non so. Visto. Visto. I cori della prima? Non mi sento di far nessuna premenza. Non mi sento di far nessuna premenza. Ma da una parte il tifosi del Bologna a farne di poi. Ma non mi sento di far nessuna premenza. Ho fatto tanti anni. Sono contento che mi venga rimastiato alla festa. Ma ti capisci a tutti i anni un po' dire che mi importa. Se non ho un progettivo. No, ma il progettivo. La mia situazione è un'altra cosa. ma le due. Non vale ragionamento. Non bevi mãare sulla tifosi. Lo faccio per far nessuna premenza. Non c'è Il monitor è un Heh Grazie. Grazie.